Ciao, io sono Martina, frequento il corso di Interior e oggi vi presenterò il mio portofolio realizzato prima di fare il colloquio presso un'azienda per lo stage. Ho selezionato i lavori più importanti di questo piegno che vanno a valorizzare quelle che sono le mie abilità. Questa è la copertina, è una copertina semplice che va comunque anche a rappresentare quella che sono io e ho scelto anche un colore predominante che è il verde ed è un colore che a me piace e che cerco sempre di inserire nei miei progetti. Qui nella seconda pagina abbiamo l'indice che mostra i lavori che ho scelto di far vedere ed è diciamo un modo più facile per muoversi all'interno del portofolio. Il primo progetto che ho voluto inserire è quello legato ai ristoranti. È il ristorante etnico, il mio è il ristorante marocchino. Infatti in questo progetto ho cercato di inserire quella che in realtà è la loro cultura e il loro stile di vita. Ho voluto anche inserire un elemento fondamentale che è quello del giardino. Io ho scelto di farlo verticale proprio perché avevo poco spazio. In questa pagina abbiamo anche la wallboard che è appunto la tavola che fa capire quello che sarà il progetto. Infatti abbiamo un'immagine di un giardino per loro molto importante. È diventato famoso poi perché in realtà è diventata la casa, l'abitazione di uno degli stilisti più importanti francesi, Saint Laurent. Diciamo che si capisce anche quale sarà la palette di colori. I colori che vanno da un blu, anche acceso, a un color senape e anche colori piuttosto neutri. Poi abbiamo qui in realtà una prima disposizione della panometria con l'arredo e ho cercato di riportare il senso di convivialità e di unione proprio con questa seduta e questo tavolo unico a forma di serpente. E poi abbiamo un focus per la parete che va poi ad ospitare il giardino verticale. E abbiamo dei primi render, comunque abbiamo un primo render un po' più notturno, serale comunque. E invece giù abbiamo un altro render che è in vista diurna, quindi una luce molto più accesa. Qui abbiamo una vista esterna con alcune caratteristiche alle finestre. E poi abbiamo altre viste, ovvero la zona comunque del banco. Ho voluto anche inserire un piccolo bancone bar, diciamo, una piccola zona bar. Ho voluto inserire questo progetto perché fa capire comunque quali sono le mie abilità sia a livello progettuale ma sia con il 3D. Questo secondo progetto è la profumeria di Armani ed è un progetto che abbiamo fatto in coppia, io e la mia compagna Giulia. Questa profumeria si troverà a Perugia e in questa tavola possiamo vedere che abbiamo la prima planimetria dello stato di fatto e quella che sarà poi l'idea del progetto. Ci siamo ispirate ad una linea di profumi Armani che è legata agli elementi naturali. In più abbiamo cercato di inserire un elemento che va a caratterizzare anche Perugia, ovvero un elemento architettonico che è l'alco. Poi abbiamo anche la Moonboard che fa capire quello che saranno anche un po' tutti i materiali e i colori che si troveranno nella profumia. Abbiamo deciso di inserire un vero e proprio corridoio in cui sarà poi esposta la linea di profumi a cui ci siamo ispirate. In questo progetto era anche prevista la scala, abbiamo cercato di comunque riportare sempre le forme simuose, quindi abbiamo deciso di fare una scala simuosa. Per questo progetto doveva essere anche realizzato un vero e proprio laboratorio, quindi abbiamo nel piano di sotto l'esposizione dei profumi, nel piano superiore invece il laboratorio. Queste sono le sezioni con arredo e qui abbiamo dei primi render in cui si vedono la scala e una prima parte espositiva, sempre comunque espositori dalle forme sinuose e di forma circolare. Da qui si possono vedere comunque una vista del corridoio, una vista della parte comunque che riprende la parete più alta che avevamo e anche la zona della cassa è un'altra zona che avevamo deciso di inserire che è quella una parete dedicata al vino, proprio perché Armani produce anche una linea di vini. In questo progetto io e Giulia facciamo vedere le nostre capacità nella progettazione perché abbiamo progettato anche una scala e in più facciamo vedere anche le capacità che abbiamo con il 3D, avendo dovuto comunque modellare più oggetti e anche l'inserimento dei materiali, perché in questo progetto è stato molto importante. Questo progetto è l'allestimento di vetrine ed è un progetto che ho fatto io e altre tre compagnie del mio corso ed è un brief reale che abbiamo fatto per una signora di Pescara che voleva innovare le sue vetrine per la collezione Primavera-Estate. Per questo progetto ci siamo ispirate alla natura e abbiamo cercato di dare ad ogni vetrina un'idea e un concept e anche un colore. Qui abbiamo i render e abbiamo il primo render frontale, uno in una vista laterale e poi abbiamo altri render più nello specifico ed è in realtà una prima vetrina legata al giallo e volevamo in un certo senso riportare quello che è il sole, quindi un colore comunque predominante per l'estate. Poi abbiamo la seconda vetrina in cui abbiamo il divano e poi avevamo deciso di far cadere dall'alto anche un elemento che va a caratterizzare quella che è l'idea per la vetrina, ovvero in questa vetrina abbiamo delle barchette proprio perché è legata al mare, infatti il colore predominante è il blu e le tonalità comunque del mare. In questa terza vetrina abbiamo deciso di far cadere dall'alto i fiori proprio perché richiamano la natura e dovrebbero essere poi realizzati dalla signora in tessuti diversi proprio per far capire la varietà di tessuti che ha dei presenti in negozio. Nello sfondo abbiamo invece dei pannelli che sono dei tendaggi proprio per far capire anche le diverse aziende e i diversi tendaggi che ha presenti in negozio. Come ultima vetrina invece abbiamo la vetrina legata al bimbo per far capire anche l'elemento artigianale che in questo caso è un letto, un letto che ha la forma di una tenda, con esposti anche a fianco dei campioni di carte da parati perché in realtà la signora offre anche questo servizio. Questo progetto è stato diverso rispetto agli altri, l'ho voluto inserire perché è stato un progetto fatto con altre tre persone quindi fa capire anche la mia capacità di lavorare in team e in più non è stato comunque facile mettere d'accordo le idee di tutte. Questo progetto in realtà è un'esercitazione che abbiamo fatto ed è una libreria, una libreria per dei bambini, ma bambini accompagnati comunque dagli adulti e dovevamo pensare sia una parte espositiva sia uno spazio che comunque permettesse a loro di giocare e leggere. Ho voluto inserire questo progetto perché mi piace molto dal punto di vista progettuale e in realtà mi piace anche molto l'idea e l'impronta che ho voluto dargli. Diciamo che mi sono ispirata al Piccolo Principe che è un libro comunque sia per bambini che per adulti e quello che dice è che dentro di ognuno di noi vive un bambino che ci fa godere delle piccole cose e quindi volevo che il mio progetto trasmettesse proprio questa cosa. Infatti è un progetto comunque giocoso anche dai colori molto vivaci e volevo che riprendesse anche il mondo dell'astronomia quasi che è legato al Piccolo Principe e infatti ha queste forme un po' sinuose che ricordano anche un po' lo spazio o comunque la nocella spaziale. Questo è un focus che ho voluto inserire proprio per far capire anche la mia capacità nel progettare più nello specifico. Infatti è un focus della cabina Armadio fatta in realtà è un focus di un progetto dell'anno scorso e abbiamo diverse viste, diverse sezioni con arredo e poi abbiamo una reference in realtà che fa capire un po' quello che sarà la cabina Armadio. Questo è il mio portfolio e sicuramente si andrà ad arricchire, infatti presto inserirò anche quello che è il brief finale però ad oggi sono soddisfatta di avere già un portfolio che posso presentare a delle aziende e comunque far vedere quelle che sono le mie capacità. Spero l'abbiate trovato interessante e vi possa essere d'aiuto anche per il vostro portfolio perché è una parte fondamentale per farvi conoscere ed entrare comunque nel mondo del lavoro. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!